Non c'è mai stato un editto bulgaro. L'uso che viaggi, come si chiama per l'altro, Santoro, ma l'altro, gli sfruttassi hanno fatto della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti, è un uso criminoso. E io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo avvenga. L'ho mai detto che questi signori non devono lavorare in televisione. Poi tutto è stato sconvolto. La verità è questa, che io criticai, e ancora la mia critica è valida, come veniva usata la televisione, soprattutto la televisione pubblica pagata con i soldi di tutti, e di essi dirigenti nuovi che verranno dovranno evitare che ciò si ripeta. Non c'era nessuna intenzione di far uscire dalla televisione o di mettere dei veti alla permanenza in televisione di chi che sia. Non c'era nessuna intenzione di far uscire dalla televisione o di mettere dei veti alla permanenza in televisione di chi che sia. E' un uso criminoso. E io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo avvenga. Quindi ancora una volta è stato tutto deformato e strumentalizzato dalla sinistra. Non so se sia una barzelletta o un'amnesia.